Oggi nel mio intervento ho parlato delle problematiche legate alla competizione tra ape da miele e api selvatiche o più in generale delle api che vengono gestite e allevate per l'impollinazione e la produzione e invece tutte le api che si trovano libere nell'ambiente. Trovo che sia un convegno molto interessante da tanti punti di vista. Intanto il contenuto, il fatto di cercare di restituire all'ape da miele la sua selvaticità e di vedere anche gli aspetti legati alla sua vita naturale che va al di là di quella più nota legata all'apicoltura. È molto bello che venga fatto in un contesto come un'isola, questa di Pantelleria, che ha comunque aspetti molto selvaggi e sicuramente interessanti da un punto di vista paesaggistico e anche l'audience è interessante perché abbiamo un mix di ricercatori, apicoltori, appassionati che sicuramente tutti assieme possono dare un contributo a questo importante tema delle api selvatiche e delle api mellifere nella loro vita selvatica.